buonasera buonasera eccoci qua allora mi sono segnato un po di cose da dire mentre si collega un po di gente tra cui che figata al trailer di star wars non so chi sia fan o meno però il trailer nuovo è una figata non c'è capito niente però spero prometta bene dunque così tanto per occupare due minuti qualche news tra virgolette ovvero sto finendo di come dire ufficializzare il corso che farò a padova se non muoio in questo preciso momento è un corso a padova il 24 novembre in via ipotetica se libera la sala conferenze mattina teoria pomeriggio pomeriggio invece squat pancastacco pratica quindi corso completo che probabilmente mi costerà giorni di salute come ha fatto l'ultimo vada altrimenti e ho altro corso che sto cercando di organizzare il 1 dicembre quindi la settimana dopo solo pomeriggio solo teoria zona milano quindi primo dicembre pomeriggio dalle quattordici alle 15 alle 18 circa solo teoria quindi tutto quello che riguarda l'allenamento della forza a grandi linee anche ipertrofia ed endurance quindi come si crea una scheda che sarebbe ormai la almeno tredicesima no la nona la decima edizione del corso quindi ormai sta ogni volta aggiungo di positive per ogni volta mi sembra sempre meglio quindi spero bene anche per le prossime due verso gennaio provo a organizzare qualcosa verso firenze verso roma e basta quindi per un po fino a febbraio marzo dovrei avere tutte le cose da fare dunque ok siete un po di gente non ho messo l'adesivo per fare domande perché alla fine occupa solo spazio di solito e non lo uso quasi mai ora stasera sicuramente servirà perché nessuno farà domande però spero che la diretta vada bene come al solito quindi se avete delle domande via libero nel frattempo mi è venuto uno spunto guardando un commento oggi al mio video quello sul che cosa faccio dopo così intrattengo in attesa di domande e c'era una battuta dicendo eh poi vanno a parlare di programmazione annuale in effetti da quel punto di vista per come la metto io sul video e concordo anche la programmazione annuale è tecnicamente abbastanza impossibile da buttare giù cioè io non posso buttare giù una progressione annuale perché l'idea è che di mese in mese io vada ad adattare il tiro non posso un anno prima sapere tutto quello che andrò a fare non posso provvedere in modo così matematico e prestabilito i risultati magari sto facendo un programma e mi spuntano dei difetti imprevisti magari sto facendo un programma e non riesco a farci niente del previsto devo cambiare i complementari devo cambiare dieta devo diminuire aumentare la frequenza di allenamento insomma organizzare annualmente i propri allenamenti è abbastanza complicato ed abbastanza inutile secondo me quindi a grandi linee si può fare ma nello specifico avere un programma che dura un anno è veramente impensabile programma per principianti allora sì per assurdo anche questa è una domanda che mi è arrivata oggi sul sito in cui parlavo del corte e suggerivo di farlo solo con massimali più o meno alti perché sennò si va a lavorare a percentuali basse e un ragazzo mi ha detto ma come percentuali basse cioè alla fine ognuno ha le proprie percentuali io ho le mie eccetera sì però ci sono se la smettessi di prudermi in naso saremmo a buon punto ci sono programmi che vanno a lavorare ovviamente tipo il corte a percentuali intorno al 60% e ci sono programmi stile ciclo russo che vanno a lavorare all'80% perché in linea di massima per un principiante sono meglio i programmi che stanno sull'80% perché un neofito, un principiante nel giro di un mese quell'80% lo trasforma già in un 75% quindi consiglierei programmi che ti vanno a fare stare molto vicino a percentuali di lavoro alte che so ciclo russo per assurdo anche lo small of però non farlo per rendere l'idea cioè 5x5 classici che sono tutti quei programmi che ti fanno sempre stare vicino al limite e stando sempre vicino al limite tu migliori molto di più perché la percentuale di crescita di neofita è veramente esponenziale quando uno intermedio avanzato invece può permettersi di lavorare a percentuali più basse perché tanto migliora molto più lentamente se un neofita lo fai stare al 60% sta veramente perdendo quasi tempo cioè potrebbe ottenere risultati molto più rapidamente quindi programmi con percentuali alti che il motivo tra l'altro di riuscita del ciclo russo in neofita migliora rapidamente e in quanto tempo ho imparato a fare la verticale? beh imparato non mi sento ancora di aver imparato però posso dire che ho iniziato ad agosto 2017 da zero totale e ho cominciato a stare in equilibrio un minimo da solo a novembre 2018 la famosa foto sul fiordo quindi allenamento tutti i giorni per un anno e mezzo e i primi mesi ne parlavo giusto ieri con un ragazzo in palestra se saltavo anche solo uno o due giorni era come ripartire da settimane prima perché comunque richiede una cura tale perché devi creare un nuovo equilibrio da zero che se tu stai fermo perdi un sacco quindi la verticale assolutamente tutti i giorni un minimo soprattutto all'inizio perché altrimenti ci metti veramente tanto ora se sto due o tre giorni senza farla non succede niente però all'inizio è una cosa che va fatta maniacalmente e l'hastend push up anche più o meno cioè ovviamente c'è molta più fatica muscolare nell'hastend push up però anche quello andrebbe fatto almeno un paio di allenamenti a settimana almeno è tassante anche ad esempio la verticale a un braccio ora l'alleno ma non vado mai oltre le due perché comunque è veramente pesante mentre la verticale di per sé la si può fare tutti i giorni che non inficia il recupero in niente quando parli del volume settimanale di circa 15 minuti seri ti riferisci all'ipertrofia o alla forza? mi riferisco a tutti e due perché dipende per prima cosa dalla percentuale che usi se tu usi percentuali intorno al 75% più siamo in quel range se tu usi percentuali più basse il range aumenta cioè il volume settimanale è legato a doppio filo con i carichi che usi più basso il carico più alto il volume che so se fai piegamenti a terra che ti spari 50 ripetizioni farai 7-8 serie se tu fai panca manubri ne bastano 3 o 4 quindi più alte le ripetizioni che usi più basso il carico più alto il volume che devi fare quindi non c'è un forza-massa c'è un che carico uso più basso più alto il volume sì in realtà allora con il mio libro è andata più o meno così avevo scritto in origine era esclusivamente un libro sull'allenamento a casa però alla fine è uscito l'equivalente di Project Strength 2 con i metodi per allenarsi a casa quindi l'ho riscritto praticamente da capo cancellando una marea di roba ed è uscito un libro che in realtà parla di fondamentalmente come mi sto allenando io adesso cioè mischiare corpo libero bilancieri verticali cose così cioè un una sorta di crossfit tante virgolette tante virgolette cioè mischiare metodi per non specializzarsi in nessun metodo mentre poi mi sono accorto aspetta ma se io recupero tutto il materiale che ho tolto ce ne esce un altro di libro ed ecco che praticamente da scriverne uno ne sono usciti due ovvio il terzo tra virgolette c'è veramente un sacco di di lavoro da fare perché è una bozza in realtà di 130 pagine quindi è bello ampia come bozza però devo lavorarci ancora parecchio però il secondo è finito ora deve uscire un libro del project a dicembre ne deve uscire un altro appena mi sembra vabbè prima metà del 2020 e il mio dovrebbe essere il terzo che esce ora dei prossimi del project senza fare troppi spoiler quindi arriverà non ho la data però penso prima di pasqua prima di giugno sicuramente cioè me lo auguro fortemente perché magari è pronto da già da un po' dunque ma una cosa sei laureato in scienze motorie o altre no 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 sono laureato in giurisprudenza laurea magistrale cinque anni di leggi continue e conseguito alle certificazioni sì allora ho fatto almeno due o tre corsi della FPL mi sembra un paio di corsi istruttori più variati seminari e ho fatto il corso di raw training che sinceramente in ambito forza allenamento è il mio preferito almeno ora non so come sia diventato però di quelli che ho fatto il corso di raw training è stato quello che mi è piaciuto di più e poi vabbè cose inutili una cosa l'avevo fatto con la palestra un corso di well well back fit praticamente per allenare le signore col mal di schiena che non è particolarmente utile in questo momento della mia vita e poi no ho svariati corsi AI FA ho seguito tutte cose di questo ambito cioè sempre powerlifting forza eccetera ma decisamente non ho la laurea in scienze motorie stavo pensando di prenderla però oggettivamente non cioè niente ovvio è un titolo ovvio se parti da zero è un titolo ma sono cose che comunque in gran parte mi sono già studiato quindi sarebbe un ufficializzare cose che so più avanti magari me la prendo ma al tempo attuale non ne ho veramente voglia di studiare di nuovo cose perché devo quello l'ho già fatto con giurisprudenza piuttosto se dovessi lavorarmi in qualcosa adesso farai stravolentieri una cosa tipo storia filosofia quelle lauree che quando hai vent'anni ti dicono ma no che cazzo lo studia a fare non ti serve a niente quindi una cosa che effettivamente mi piace studiare essendo già il mio lavoro quest'ambito mettermi anche a studiare roba in quest'ambito non ne ho veramente voglia piuttosto anche una laurea in nutrizione così almeno faccio le diete ma no il biochimico tutta quella roba lì non la sopporto cioè quindi per ora posto così volevo prendermi in realtà l'ultima cosa qualche certificato estero tipo mi piaceva quello dell'USAID ci sono certificazioni estere interessanti però a conti fatti cioè già in Italia l'unica cosa che ha valenza reale è la laurea figuriamoci un corso estero quindi per spendere 700 euro in un corso americano che è un attestato di partecipazione da appendere in camera facciamo che per ora me ne risparmio dunque pro contro dell'iFit non ci sono ancora andato ho il primo personal questo ciao ho il primo personal questo sabato mattina ma non mi ci sono ancora mai mai allenato quindi la vedo questo sabato c'è un rack mi hanno detto che ne mettevano un altro c'è una bella zona per fare stacchi bella ampia le panche come ahimè in tutte le palestre non mi sembrano un gran che però vediamo cosa se ne può tirare fuori dunque può essere che dopo una panca pesante ne risento sullo stacco che eseguo dopo no assolutamente considera che tutte ah interessante quella delle prese no considera che tutte le alzate ovviamente tra loro si incrociano basta pensare che se tu ipotesi estrema in un test massimale ti tipo scuola panca stacco vai a cedimento nella panca la possibilità di esserti bruciato allo stacco è molto alta perché comunque il sistema nervoso è quello cioè i muscoli non sono gli stessi ma il cervello diciamo quello sì quindi il sistema nervoso picchia cioè se tu in un test massimale cedi nello squat la probabilità che ti vada male tutto è estremamente elevata quindi sì se fai la panca pesante molto pesante ci sta e bulldog grip allora jack grip credo giapponese immagino bulldog grip presa normale che ne pensi in panca immagino o spinte no allora la per me la presa stile carpia chiamiamola giapponese quel che è è la migliore quando si fanno delle spinte a presa più o meno larga soprattutto se hai polsi piccoli perché secondo me è l'unico modo per appoggiare decentemente il bilanciero in mano senza piegare il polso presa normale secondo me la puoi fare se hai oggettivamente un polso medio grosso perché se hai il polso piccolo con la presa normale ti si piega il polso bulldog grip che se non sbaglio è la presa col pollice in opposizione è una presa carpea fatta male ciao è una presa carpea fatta male perché è un modo come un altro per appoggiare il peso sulla parte sulla parte bassa della mano però non cioè tipo nel lento avanti io sono sincero mi trovo bene con quel tipo di presa perché non riesco a metterci il pollice bene quando faccio il lento avanti visto che è una presa stretta quindi secondo me ogni cosa ha la sua ha la sua presa ottimale poi se non fai ci sono gare eccetera prendi un po' come ti viene meglio ho visto una domanda faccio fatica a rendere la traiettoria in panca meno verticale più obliqua perché mai dovresti farla meno verticale più obliqua se è verticale ben venga cioè tra un punto A un punto B la traiettoria dritta come dire è la migliore se tu vai in obliquo fai più strada quindi ben venga al fatto che hai la traiettoria verticale decisamente sì cosa ne pensi della larghezza della presa sulla panca piana sì allora ho un po' rivalutato negli anni considerando che io l'ultima gara che ho fatto ho preso a 186 cm eh sì 186 cazzo un metro 80 scusa ho preso 86 cm e cioè leggermente fuori perché in Fipe si poteva ancora all'epoca però diciamo che quello è una cosa puramente prestazionale se tu vuoi fare ipertrofia oltre al fatto che una presa troppo larga non fa benissimo alle spalle se tu vuoi fare ipertrofia va benissimo una presa di larghezza spalle diciamo la classica presa che quando sei al petto hai l'avambraccio per predicolare al suolo perché fai un pochino di rommi in più per il petto fai un pochino di rommi in più per il tricipite è un pochino più completo l'esercizio in ottica prestazionale invece più riesci a stare comodo largo o meglio è ti sei melenato in ottica epertrofia sì questo estate ad esempio se no un paio di anni fa l'ultima volta tendenzialmente con le schede mi ero fatto seguire per un periodo dal renaissance periodization per imparare appunto a vedere come si programma in ottica epertrofia quindi roba di massimo volume recuperabile tutte queste cose qua che è stato molto interessante infatti ora io programmo in ottica epertrofia ma anche non quasi esclusivamente in quel modo perché mi sono trovato veramente bene ottimo approccio interessante pratico quindi assolutamente non mi alleno sempre in quel modo perché sono sincero mi rompo anche le palle abbastanza rapidamente di di dire oggi devo fare i dorsali oggi devo fare i femorali cioè non mi piace andare in palestra con l'idea di allenare un muscolo cioè mi serve veramente di perdere tempo infatti mi sono andato in ho mantenuto un po' di verticali però non sono andato avanti e mi è scazzato non andare avanti in skills diciamo che le trovo decisamente più divertenti che stare lì a fare sentire un muscolo poi opinione personale pochissimi di quelli che seguono salenano come me tutti salenano in ottica epertrofia quindi devo anch'io ogni tanto fare in prima persona perché alla fine se non provi tu come fai ad allenare la gente su quelle cose che non provi perdere la zona dorsale nello stacco è sempre un male? beh no perché cioè la zona dorsale non la puoi perdere la puoi accentuare perché il dorsale non è una lordosi ma è una cifosi cioè per suonatura sei già curvo quando fai stacco al massimo lo accentui quindi detto questo l'importante è che quando fai stacco non vai a perdere eccessivamente dopo essere partito cioè tu puoi metterti in una posizione ma l'importante è che quando stacchi non vai a piegarti giù come anche lombare per dire puoi partire con lombare magari non iperesteso dritto anche leggermente curvo per farlo alla bolt alla costantino l'importante è che mentre fai stacco tu lo faccia bloccato perché quello che fa male è come sempre il perdere le curve fisiologiche quindi piegarle sotto il peso o come fanno in quei bellissimi video su youtube cioè praticamente tu stacchi e ti srotoli sul bilanciere quello che fa male alla schiena fondamentalmente è questo la variazione delle curve della schiena sotto sottocarico se tu non perdi la schiena la tieni bloccata per assurdo puoi fare anche uno stacco gambe tese non è una posizione salutarissima però sicuramente puoi diminuisci di molto il rischio di farti male dunque tornando secondo il discorso della larghezza della presa della panca sì ok per avere un punto di riferimento del bilanciere rispetto agli anelli ok tu come ti regoli allora anelli quindi indice sugli 81 e non 181 indice sugli 81 è presa diciamo da gara powerlifting ed è lì dove mi trovo ancora meglio a fare la presa carpa cioè invece di stare così a cercare di piegare in fuori il polso per allungare il più possibile la leva però quello secondo me è puro powerlifting o perlomeno puro abitivo a forza perché alla fine più largo stai meno ro mai quindi bisogna essere abbastanza scemi per andare a fare in gara una presa stretta poi presa diciamo con il mignolo sugli 81 secondo me è una presa più in ottica bodybuilding che fai che io la chiamo presa media nelle schede fai un buon rom senza andare a utilizzare un come dire un angolo eccessivo del tricipite perché ovviamente più tu chiudi il tricipite non è che meno lavora il petto perché oggettivamente più scendi più lavora il petto e più lavora il tricipite il problema è che più fai lavorare il tricipite più diciamo l'anello debole della catena viene fuori quindi io come petto non scenderai sotto una presa media e poi c'è la presa stretta che è larghezza spalle per dire dove finisce la ziglinatura nei bilanci gli olimpici quelli seri sotto questa larghezza quindi dove c'è la parte liscia diciamo è troppo stretto e c'è secondo me un elevato rischio di farsi male quindi o sei un bro che fa panca con le mani unite o non ha senso perché comunque il limite massimo oltre cui secondo me proprio il tricipite lavora sotto un angolo brutto secondo me ti puoi anche far male quindi largo 81 media mignoli su di 81 presa stretta più poi vabbè puoi fare gli intermezzi come consiglio di iniziare a lavorare in questo ambito come settore di sala con cio line e no guarda seppure devo ammettere diciamo non che non lo rifarei ma decisamente lo farei in un'altra palestra la cosa più utile figurati la cosa più utile è assolutamente fare l'istruttore di sala è come dire lo stage quando tu finisci ti laurei vai in azienda fai lo schiavo anche senza virgolette fai lo schiavo sottopagato che fa le fotocopie e l'equivalente in palestra è fare l'istruttore di sala però lì è un ottimo modo perché se tu sei in una palestra più o meno popolata ti capita veramente di tutto dalla signora dal ragazzino il signore più anziano quello che vuole allenarsi seriamente cioè hai un parco atleti pazzesco e tu riesci a veramente farti esperienza cioè io ad esempio un giorno me lo ricordo ancora mi era capitata una signora con la diastasi addominale perché aveva partorito e io che cazzo è la diastasi addominale ho approfondito cioè ti dà modo di approfondire un sacco di cose il coaching online per quanto io l'abbia fatto proprio presto a livello di programmazione di schede però in ambito powerlifting più che altro ultimamente il coaching online è un po' il modo per aggirare il fatto che nel concreto tu non sei cagato da nessuno cioè tu hai un anno di allenamento ti senti automaticamente autorizzato a fare schede online a qualche babbo che che si si fida per non so quale motivo cioè però è come aprire un'azienda senza aver mai fatto un minimo di esperienza cioè se tu vuoi lavorare seriamente in quest'ambito si passa dal dalla sala perché appunto appunto cos'è una diastasi dominale in soldoni è presente che l'addome è un six pack la linea in mezzo con la diastasi dominale per via dell'essere stata incinta è aperta quindi l'addome è aperto tra virgolette nella linea alba e tipo se tu con la diastasi dominale gli fai fare crunch le peggiori ancora di più la situazione quindi va un attimo approfondito pieno di gente con problemi posturali cioè online senza neanche vedere la persona devi avere veramente un bot di esperienza cioè secondo me un coaching online fatto bene è molto più difficile di un coaching di persona perché online che so tu t'alleni oggi mi mandi il video io ti faccio le correzioni e tu venerdì provi a fare quelle correzioni quindi devi essere estremamente bravo tu a fare le correzioni per la persona quando invece dopo che hai visto un bel bel po' di gente riesci a capire cosa non va eccetera quindi assolutamente istruttore di sala poi si fanno i personal e poi se va bene che so ti puoi anche pensare di aprire un centro tuo dipende dalle città però assolutamente istruttore di sala in una palestra che magari ti fa anche uno straccio di contratto ben venga ciao Alessio ciao ogni tanto qualcuno saluta l'altra volta ti ho chiesto quale complementare in panca usare di recente ho provato in ramping e sono arrivato al mio vecchio massimale sì di panca stretta immagino a sticking point a metà alzata ok a metà alzata puoi fare o panca stretta dipende dalla fase in cui sei in linea di massima ti dirai o fai panca stretta perché ho un problema di tricipiti o provi tutti i vari lavori di board floor press quindi tutta roba parziale e tra cui mio preferito la panca con il pin press però con i pin alti in cui tu fai solo la chiusura quello mi piace un botto molto più della board se no puoi fare floor la panca la fortuna deve avere una marea di esercizi complementari molto più dello stacco molto più dello stop quindi trovati un esercizio parziale che ti piace e picchia su quello dunque un attimo che mi sono arrivato un sacco di domande non inserendo stacco a gambettese nella promazione qual esercizio inserirli per i femorali beh che tu non inserisca lo stacco a gambettese ben venga perché è un esercizio pessimo dal punto di vista salutistico beh se mi hai fatto domanda dello stacco prima immagino basta quello cioè alla fine se tu fai squat se tu fai stacco i femorali sono allenati se tu ci fai anche leccarle che è l'unico esercizio per allenarli come flessori sei a posto cioè non è che bisogna far mille esercizi alla fine se fai già squat se fai già stacco leccarle i femorali sono allenati quanto ti fa eccitare Yuri Keki che saluta il pubblico sugli anelli durante la croce all'Olimpia di 96 no più che quella del 96 guarda una scena pazzesca che ho visto in un suo video un annetto fa cioè lui sta facendo vederle il sit cioè lui come se niente fosse si mette nel sit gambe sparate in avanti immobile e tranquillamente si gira e parla con quello che lo sta riprendendo su no vedete cioè il sit si fa in questo modo e nel video dopo si mette in front lever e lui bello tranquillo parla come se fosse niente cioè mi sembra una cinquantina d'anni è possibile non mi ricordo però un livello atletico pazzesco cioè è veramente cioè più il livello che adesso quasi che una volta perché cioè ok non che sia obbligatorio avere quel livello se sei un atleto olimpico però adesso comunque ha andando avanti ha mantenuto una forma pazzesca ci metterei la firma sinceramente quindi tantissimo per rispondere alla tua domanda ma quelli che fanno stacco su non hanno mai paura quando vanno giù che col biancher si distruggere su un piede e si succede ogni tanto che qualcuno ci rimetta un dito non ci scherzerei troppo a una gara di qualche anno fa tra l'altro qua a Genova CPL era partito un dito nello stacco un vignolo credo quindi succede in ottica per trofia allenamento un giorno sì ed uno no faccio petto d'orso spalle braccia gambe a b c a di nuovo dopo 5 giorni consigli di altre split non full body questa non l'ho capita petto d'orso spalle braccia gambe di nuovo questo a passo non ho capito cioè dovrei rileggere hai mai pensato di aprire un tuo centro beh sì mi piacerebbe sinceramente ma beh come sai Genova non è proprio una ridente cittadina in cui piovono occasioni quindi non è proprio al momento non me la sento infatti preferisco fare personal appoggiandomi ad altre palestre perché comunque sei a livello di powerlifting o di tutto quello che vuoi a una città anche la clientela media non è proprio giovanissima quindi aprire proprio un centro tanto con gli affitti che ci sono è un bel investimento quindi è nelle cose che mi piacerebbe fare ma sinceramente aspetta ancora qualche anno prima di pensarci seriamente come complementare del lento avanti in ottica forza utilizzare un lento manubri sì o variare semplicemente lo stimolo restando col bilanciere e fino ad ora ho utilizzato il push press ma controvoglia beh no il lento manubri va benissimo perché alla fine il push press sì come complementare per il lento va benissimo però ti toglie la prima parte del movimento diciamo quindi il lento manubri essendo molto più muscolare e il lento avanti è decisamente un'alzata muscolare e no non ridere se me la riscrivi un attimo ti rispondo alla domanda e non ho capito il finale e dicevo lento avanti è molto muscolare come alzata cioè secondo me è l'alzata con lo sticking point più bastardo in assoluto cioè tu parti ti pianti qua quindi hai bisogno di un bel po' di muscoli che sappiano spingere e il lento manubri è ottimo da questo punto di vista dunque conosci Filippo D'Albero Nicolás Rubini se sì cosa ne pensi beh sinceramente non mi piace parlare di altre persone né nel bene né nel male fa molto dissing poi la gente fraintendere le cose anche perché le persone non vedono l'ora di fare dissing quindi non non parlo di altre persone fai qualche tipo di dieta o basta che arrivi ai macro giornalieri no in realtà non faccio neanche ah sì scusa quella delle parallele avevo vista mi sono dimenticato e rispondo prima a questa che me la sono persa ring deep o deep parallele differenza solo sui muscoli stabilizzatori che vantaggio ha averli forti e beh no non è che ci siano vantaggi o svantaggi nell'averli forti tutti e due già dipende qual è il tuo obiettivo l'essere forti agli anelli non ti dà secondo me vantaggi nelle deep cioè l'unica cosa utile degli anelli è che tu puoi farli con una versione diciamo aprendo il movimento quindi non rimanendo sempre attaccato al corpo che vai a come devo utilizzare di più il petto come aduttore fai della sorta di croci spingendo un esercizio carino per il petto tosto quindi di buono anche le deep agli anelli tu puoi usarle in modo molto più vario e poi mi piace un sacco perché è la parte finale del mascolap quindi a me la roba agli anelli piace molto pratica quindi tornassi indietro fare molte più cose corpo libero e quindi non ti secondo me non hanno cioè devi essere forte di deep per fare la roba agli anelli ma non è che tu debba fare roba agli anelli per essere forte nelle deep quindi è un transfer in senso unico secondo me diete no non ce n'ho decisamente voglia neanche tantomeno di contare il macro cioè l'unica cosa che conto io sono le proteine al giorno cioè cerco di stare entro almeno minimo 1600 quindi che cazzo dico 1,6 grammi di proteine per chilo e basta poi dipende dalle fasi se sono in normocalorica sto in un tot se sono in iper ipo vario solo la 4 proteine ma non avendo gare di nessun tipo né altro la dieta del sabato obeso esatto non ho il minimo interesse di tenere grassi alti cioè secondo me queste cose se non fai gare non servono a niente perché cioè non è un approccio che secondo me ha senso cioè se tu fai una gara devi avere un picco di forma non puoi pretendere di stare tutto l'anno in un picco di forma anche perché un giorno bevi poco mangi più sale da un giornalato sei una persona diversa quindi dover maniacalmente guardare grassi carboidrati non è un approccio che fa per me mi spiego meglio ok ottimo allenamento A petto d'orso ok B spalle braccia C gambe ah ok questo giro mi permette di ripetere A dopo cinque giorni sì 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 va benissimo non vabbè come dicevo prima io preferisco approcci ma che non funzionino perché mi piacciono di più più full body però è un buon compromesso assolutamente nel lungo periodo è una monofrequenza tranquillamente quindi sì va benissimo è un misto tra mono multifrequenza quindi è carina front squat migliore del back squat a livello muscolare e a carico di quadricipiti scusate e se tu devi fare un allenamento in ottica quadricipiti il front squat è decisamente meglio del back squat più specifico però c'è il solito discorso cioè più specifico ma usi meno carico mentre nel back squat magari bianciare alto con la terra è un po' meno specifico ma usi più carico quindi alla fine è sempre tutto un ruotare in meno questi discorsi cioè magari un giorno come il discorso di fermi non fermi una volta fai fermo il petto una volta non lo fai una volta usi più carico usi meno cioè non il migliore non esiste come concetto secondo me c'è l'alternare quello quello è il migliore come concetto e avresti qualche spita alternativa da consigliarmi che non sia full body mi annoio a morte ecco vedi infatti abbiamo approccio radicalmente diverso upper lower non è full body ma è un buon compromesso tra il tuo modo e il mio modo ovvero fai una giornata incentrata sul tronco una volta incentrata sulle gambe e lo ripeti con più frequenza quindi la cosa positiva è che ti permette una maggiore frequenza cioè non devi aspettare cinque giorni per rifare cioè non è la settimana con solo una volta petto ma almeno la fai due volte a settimana due volte a settimana fai tutto che secondo me è meglio e te lo dico io che di full body cioè la per loro non mi è mai piaciuto però in quell'ottica avendolo provato bene è molto meglio secondo me molto meglio che le full body cioè se io una volta ero un pochino più talebano diciamo ma ora tutti quelli che seguo più o meno in questo periodo in ottica ipertrofia se si possono allenare quattro giorni o da quattro giorni in più li alleno in upper lower se possono allenarsi più di quattro giorni tipo cinque faccio upper lower e una full body a fine settimana ok aspetta poi torno su quali scarpe da squad consiglieresti con un buon rapporto qualità prezzo sono povero allora se vai su amazon le more miles more miles hanno un buon prezzo costano sulle 40 euro anche se io devo ammettere che per un certo periodo da decathlon ho trovato le adidas powerlifts sulle 50 euro bruttissime quelle grigie però chi se ne frega del colore cioè basta che funzionino e c'erano ora magari sul sito ce l'hanno ancora di persone non le ho più viste credo però sicuramente si quindi nel caso more miles devi sbatterti un po' a cercare il numero e a trovare un colore vagamente decente su amazon però il prezzo è più o meno quello provato sia sumo che regolare quest'ultimo è più forte regolare ok ma mi sento più sicuro con il sumo che carica meno sui lombari esatto ho questo dubbio esistenziale che mi consigli andare su man mano con il sumo beh si il sumo fa sentire tutti un pochino più tranquilli a livello di schiena però se sei più forti di regolare cioè dipende allora qual è il tuo obiettivo se il tuo obiettivo è chili fare dei chili fai il irregolare tenendo il sumo cioè li puoi tenere tutti e due perché comunque uno è complementare dell'altro cioè non si sa mai che complementare i fari per lo stacco il modo migliore è scegliere un altro stacco l'idea è più che altro fare allenare per un buon periodo tutti e due e secondo me è abbastanza difficile che il sumo ti rimanga indietro come chili quasi sempre è più alto poi magari delle leve particolari no però io picchierei bene su entrambi e secondo me poi va va su libri sulla forza allora sulla forza sulla forza a me piacciono quelli di Zatzulin quelli di Chad Smith Renaissance Paradization e c'è in realtà una marea di libri dovrei fare un video magari una volta di questo in cui mi metto davanti al computer col mio elenco di libri perché me lo chiedete spesso ma non me ne ricordo mai i titoli quindi se mai faccio un video a parte in cui dico appunto che video che libri consiglio però sì io onestamente ho letto quasi tutto in inglese quindi sono tutti libri esteri di italiano ho letto giusto di CSS che io ricordi ma è quello di Gruzza domanda essenziale se non posso permettermi un trainer che mi corregge la tecnica della sette se mi filmo mentre mi eleno posso rimpiazzare il trainer e beh se trovi persone che ti correggono sui vari gruppi sì o magari ti trovi un trainer online che ti costa meno insomma i modi puoi fare una seduta da qualcuno sperando che ti correggano una volta una volta sola ci sono tanti modi per per farsi correggere però di base come fanno tutti si filmano si mettono nei gruppi e la gente ti corregge poi come oggi nel project invictus è pieno di stronzi che fanno commenti del cazzo però di base qualcuno che ti dà un consiglio utile lo trovi non so se sei sul mio gruppo su facebook ma almeno lì da un lato ultimamente è un po' morto ma almeno non ci sono rincoglioniti che fanno commenti stupidi hanno ancora le powerlits bruttissime da 59 euro ecco appunto su decathlon ci sono ancora ok questo momentaneamente l'assalto DCSS non si trova più in giro sì lo so lo so è fallito l'editore quindi come dice Paolo tranquillamente allora due alternative diciamo per il DCSS se andate su script scritto come lo pronuncio script ci sono un sacco di articoli suoi di Paolo del vecchio blog di Dangerous Fitness che poi sono finiti nel libro quindi quello è uno dei modi per avere accesso a quel materiale il secondo è oggettivamente il pdf l'importante è che se scaricate cercate il pdf non date dei soldi a qualche babbo che lo vende tutti più o meno piratiamo cose nella nostra vita ma pagare gente per un pdf è un po' quindi cercatelo ma non non date soldi come si entra nel truppo facebook iscriviti il nome ovviamente è Prudvangar come sempre e cercano le domande che ho lasciato ancora una sul signor di anelli tanto per far vedere che non ci fossero il bot però niente è libero tornando a noi non mi importa né chi alla fine è solo che oggi che in regolare ho avuto una brutta fita al lombare con un peso che ho sempre gestito non ho capito il perché forse ero troppo contratto no su perché ti sia successo non lo so valuta questo allora il cioè lo stacco partiamo dal presupposto che se ti interessa lavoro ipertrofico puoi anche non farlo puoi farti un rumeno lo stacco intendo non un rumeno fisico e cioè puoi fare un po' alla fine quello che vuoi non è obbligatorio fare lo stacco quindi se ti da problemi in regolare puoi fare il sumo quindi sì chi se ne frega rispetto allo stacco normale ha una maggiore diciamo tensione in zona quadricipiti però chi se ne frega appunto se tu vuoi allenare la catena cinetica posteriore ci sono altre varianti più tranquille lo stacco rumeno il good morning iperestensioni non che siano iperallenanti però puoi fare tante cose sì esatto meglio una rumena nel caso no comunque scherzi a parte non è necessario fare stacco se lo stacco da brutte sensazioni che ci sta al regolare lo fa perché comunque bisogna settarsi bene tanto vale fare altro cioè io sta cosa del dover per forza far stacchi che non si cresce senza gli stacchi è una cagata figurati anche perché lo stacco per come secondo me ha senso inserirlo è un esercizio per le gambe se tu fai già squat non è ovviamente solo la stessa cosa però sì ma questa è la borraccia che non mi hanno rubato cioè sono riusciti a rubarmi una borraccia in palestra spero di avere una strana malattia che si attacca solo con le borracce guarda ho sempre fame bisogna mangiare meno sì è probabile oppure vi spedisco una torta solo che non so in che condizioni possa arrivare no la cosa che mi hanno rubato la borraccia è una cosa che proprio ha ferito il mio orgoglio cioè non immaginavo che le persone potessero rubare una borraccia figurati è un piacere e una fat body su tre giorni per un intermedio avanzato differenza con un principiante cioè un principiante magari vogliono la mia potenza ma ora vado la mia nuova borraccia da un euro e novanta così se me la rubano perché dopo tutto siamo sempre a Genova quindi rubarmi dieci euro diventi mio nemico mortale vado con la mia borraccia da un euro e novanta con la minaccia di essere sodomizzati quindi allora differenze tra principianti avanzati intermedi no l'unica differenza è che cioè una full body tu le imposti sempre lo stesso modo quindi giornata focalizzata sul petto focalizzata a schiena focalizzata a gambe diciamo più qualche esercizietto l'unica cosa che cambia sono gli esercizi che usi cioè più livello è alto più secondo me puoi permetterti di aggiungere esercizi che per un neofita sono decisamente inutili cioè io delle croci ai cavi croci alzate laterali tutti gli esercizi di rifinitura se tu ti alleni da un mese un anno quello che è non ti serve una niente per me è poi per carità c'è chi vive di alzate laterali e campa benissimo però in ottica ottimizzare secondo me se sei neofita meglio un lento avanti in più piuttosto che dell'alzate laterali in più una panca in più eccetera cioè al posto di un esercizio di isolamento ci metti un altro esercizio fondamentale composto più vai avanti più risultano allenanti anche esercizi di isolamento quindi più puoi inserirli tipo le alzate laterali secondo me ha senso inserirle quando riesci a usarci a meno di 10 kg sotto veramente fatti delle spinte sopra la testa in più è meglio poi miei approcci un po' drastici però vedo veramente troppe persone che fanno alzate laterali quando dovrebbero essere legate a una shoulder press con una cinta e uscirne fino a che non hanno carichi decenti quindi questa secondo me è la differenza neofita intermedio ho finito il ciclo russo ora che programma dovrei fare ringrazia che non facciamo lo smologo ringrazia solo perché hai avuto l'accortezza di contrarti un po' il paccio ma prima o poi passa la contrattura e lo smologo arriva se si è sempre fatto allenamento finalizzata l'ipertrofia un cambio radicale verso la forza powerlifting può cambiare anche in positivo il fisico assolutamente sì oddio se cambia anche il tuo obiettivo cioè ha senso fare questa cosa se tu passi da allenarti per la forza cioè per l'ipertrofia e dici voglio fare powerlifting oggettivamente ci può essere uno non vedo l'ora che non vorrei che mi chiudesse può avere sicuramente un effetto positivo infatti negli ultimi anni perché c'è stata la moda del powerlifting per l'ipertrofia un po' per il discorso che ho prima finito cioè le persone stavano lì in palestra a fare le loro alzate laterali con tre chili cosa che facevo anch'io anni fa tanti anni fa e passando da alzate laterali in tre per week a fare panca tre volte a settimana oh sono diventato più grosso come mai ecco questo sicuramente se tu magari nei tuoi allenamenti davi poco spazio ai fondamentali ci sono powerlifter più grosse del bodybuilder medio sì lì entriamo un attimo nel discorso che mi serve la laurea in giurisprudenza per sapere cosa dire perché sì è vera questa cosa perché l'obiettivo comunque carico però non è che tu devi allenarti come un powerlifter puoi allenarti tranquillamente utilizzando progressioni o un'impostazione di forza sui fondamentali quindi multifrequenza fai almeno un pari di panca settimana più un lento avanti due squat uno stacco eccetera però se l'obiettivo di peretrofia ci vogliono gli esercizi di peretrofia cioè tu se vuoi diventare più grosso non ha senso fare solo il ciclo russo anche perché poi questo boom che hanno tutti finisce finisce perché devi variare e come vari coi complementari quindi se il tuo obiettivo è diventare più grosso ci metti complementari per l'ipertrofia se il tuo obiettivo è diventare più forte ci metti complementari per la forza lo scheletro di base però secondo me è sempre multifrequenza dei fondamentali che se non devi far forza i fondamentali sono anche un pochino più ampi cioè puoi fare panca inclinata puoi fare dip come fondamentale non è che devi essere panca centrico quindi un powerlifting diciamo con un parco fondamentale molto più ampio sì sono lo stesso che ti ha risposto sull'altra pagina e dovresti chiedere a qualche mail su Invictus sinceramente non ho idea di come si comprino i libri sul sito non comprandoli da qualche parte dovrebbe esserci la comunque la sezione su cui mettere il codice senso della vita pesante questa è da un po' che non leggo libri sul buddismo quindi la risposta non ce l'ho portata quindi non ne ho idea però scherziamoci poco perché è una domanda che mi faccio spesso quindi deve esserci per forza chi lo sa diventare più forti probabilmente ognuno gli dà il senso che vuole il nostro il nostro il mio diventare più forti livello ipertrofico meglio il penley o rubbish la spazzatura crematore immagino vabbè comunque no a livello ipertrofico per la schiena è una cosa che sta andando molto di moda sì è per quello che mi faccio quella domanda infatti non entriamo così sul filosofico che mancano quattro minuti non deprimiamoci sui quattro minuti finali e no allora un po' questa disputa ultimamente meglio le trazioni meglio l'art machine meglio rimatori meglio sti cazzi allora decisamente l'esercizio con il rom completo alla fine per i dorsali bisogna anche capire cosa si intende per schiena i dorsali sono le o trazioni o le art machine perché hanno comunque il rom più ampio dell'omero un rimatore a mezzo rom quindi non è che siano un esercizio migliore in virgolette tutti i rimatori ovviamente hanno mezzo rom di dorsale e un focus pesante su sti cazzi hanno un rom più accentuato diciamo sul centroschiena viene coinvolto di più però anche le trazioni a presa stretta coinvolgono di più il centroschiena quindi alla fine come sempre non c'è un un meglio o peggio cioè alternare se tu fai solo un esercizio sicuramente la risposta è che non hai i risultati che avresti se ne facessi di più quindi il trucco è fare più esercizi possibile biglietto convention preso ti aspetto per un fotografo non ho fatto l'indice non so ancora se vengo perché appunto dopo tre giorni parto per tromso quindi mantengo le energie probabilmente per la caccia l'aurora boreale sperando di beccarla girerebbero un po' i coglioni non la beccassi però vabbè perché parto tre giorni dopo quindi troppi passare da Rimini alla Norvegia alta bel viaggio però nel caso assolutamente foto con indicandosi a vicenda dio quanto odio quelle foto quindi tornando a noi non c'è mai secondo me meglio la machine o le trazioni meglio il rimatore o meglio le trazioni meglio il pendley o meglio il raw accommodation law la risposta di un soggetto biologico diminuisce con stimoli costanti sì dovrebbe essere questa quindi quindi se io faccio sempre la stessa cosa quella cosa diminuisce l'effetto nel tempo quindi io appunto come dicevo prima wow scopro il powerlifting e fare cinque squat a settimana mi fa diventare grossissimo però poi dopo sei mesi un anno va da persona a persona quello stimolo diventa sempre più insufficiente io rimango sempre di più allo stesso punto quindi nel dubbio meglio il front squat dello squat no non c'è il meglio meglio variare infatti ora sto cercando di ampliare sempre di più nel corso che farò a Padova nel corso che farò a Milano le slide sul variare aumentano ogni giorno perché sto continuando ad aumentarle perché secondo me il punto della programmazione è variare ora ho ancora due minuti prima che Instagram mi cacci fuori vediamo di rispondere a questa si possono raggiungere ottimi risultati in termini di forza con tre allenamenti settimana voglio arrivare a gareggiare un giorno magari a livello nazionale beh sì ci sono tranquillamente persone che conosco che si allenano tre volte a settimana e hanno vinto un gran bel numero di body quindi puoi fare tranquillamente tre volte a settimana alla fine l'importante è quanto fai cioè se t'alleni sei volte almeno come facevo io era il volume di tre allenamenti su sei t'alleni meglio però più o meno è sempre lo stesso livello di volume quindi sì tre volte a settimana va benissimo come posso sostituire il pendle di row a fine allenamento a volte mi viene male a ricaricare il bianciere beh il pendle di row a livello di powerlifting è tendenzialmente inutile passami il termine quindi con qualsiasi rematore con cui ti trovi meglio ti puoi fare un rematore manubri pulle il pulle ultimamente mi piace un sacco un vertical row quindi la macchina cioè non il pendle di row sinceramente figurati nel powerlifting lo eviterai quasi perché è estremamente tassante a livello di lombare c'è la posizione non è comoda se hai già due squat fai uno stacco il pendle row è tutto affaticamento lombare in più quindi sinceramente mi farei un sano vertical row che sei in appoggio toracico tiri e ti levi da tutto tanti muscoli sono quelli non è che il tuo corpo sa che stai facendo un row o un pendle row dunque anche questa volta siamo arrivati a meno 20 secondi dalla fine quindi come sempre ringrazio tutti per la partecipazione carico ora la diretta su youtube abbiamo finito le domande quindi sull'adesivo non potete più aggiungere altro ci vediamo come sempre mercoledì prossimo per nuove entusiasmanti domande sull'anca scatto quindi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti